Ciao a tutti, purtroppo un turista che decide, vado a farmi un giro a Como, ed è vero, in questo momento sto diluviando, ma comunque in generale quando piove, anche normalmente in questa città qua, all'entrata della nostra città si crea una pozza terrificante. Adesso, quelli che sono nella zona terranno, esatto, staranno in mezzo alla strada. Chi invece non conosce quella pozza lì, che è lì da anni, lo prenderà in pieno praticamente, ed è veramente tanto profonda. Ecco, questa qui forse è un po' più in mezzo, guardate, ecco, sbanda un pochino. Questa, come vedete, è pericolosissima ed è qui da anni, è vero, in questo momento sta diluviando, appena finita di grandinare addirittura, per amore. Ecco, questo straniero sta in mezzo, come vedete, tira su veramente parecchia acqua, è pericolosissimo per l'effetto a cappleaning o quant'altro. Questo è il benvenuto di Como a chi decide di venire a Como a fare un salto in macchina.